questo video riguarda in modo particolare le universal audio apollo thunderbolt perché qui è possibile fare la riconfigurazione la rimappatura dei canali quindi spostare i canali dall 1 al 2 3 4 5 6 eccetera a cosa ti serve questa operazione per fare le connessioni da remoto che utilizzano chrome come base di trasporto quindi per esempio su session link pro tu avrai sempre la possibilità di connetterti alla tua scheda audio ma i canali 1 e 2 ma molto spesso i canali 1 e 2 sono quelli del microfono nell'altro video quello del bus del q si chiama così e ti ho fatto vedere come portare fuori il suono su un q dentro a un'altra scheda audio che puoi utilizzare per come veicolo di trasmissione delle tue connessioni remote quindi streaming oppure streaming di fatto però è un'altra scheda audio non è la universal audio non è la appollo non ha la qualità tecnica proprio della scheda audio appollo su cui in realtà puoi stare utilizzando gli aux e facendo tutto in the box quando ti connetti con session link potrà andare a vedere direttamente i driver della tua scheda audio usare i canali 1 e 2 che però saranno gli aux su cui tu potrai mandare tutti i suoni del tuo computer deciderai tu come farlo non solo questo ti consente anche di creare dei suoni differenti rispetto a quello che tu stai realmente registrando quindi se tu registri in flat per mandare questo suono poi al fonico che lo elaborerà puoi comunque mandare un suono corposo un po masterizzato a chi ti sta ascoltando perché molto spesso sono agenzie che partecipano a questa riunione e vedono quello che stai facendo e quindi ti guidano nella sessione di realizzazione dello spot del documentario e quello che stai facendo ma magari sono in ufficio con le cuffiette e allora a questo punto tu non puoi mandargli il suono flat che stai registrando hai bisogno di rendere un po più corposo e in questo caso resti in the box e gli pompi un po il suono in modo che loro sentano bene quello che stai facendo ma è solo uno dei tanti motivi per cui sarebbe preferibile usare tutto quanto in the box e utilizzare soprattutto la ux ma ci sono delle cose da sapere che cerco di spiegarti in questo lungo e tribolato video perché ci ho messo un po a farlo perché perché non è facile spiegare una cosa che sembra facile che però non è facile però è facile ma si è semplicissimo credo noi puffi siamo così saltiamo da qui a lì allora qui c'è già la mia configurazione fatta come vedi session link funziona dici beh c'è il microfono session sì ma il microfono da me è sul canale numero aspetta che te lo dico il mio microfono si trova sul canale 35 di ingresso non il canale 1 e 2 dove vedresti normalmente i primi due canali della scheda audio che vedrebbe session link quindi io voglio che session link vada a vedere altre cose infatti se io fossi in configurazione default mo ci vado come vedi universal audio mi sta dando solamente i canali 1 e 2 ma lo vedi anche dall'ingresso di dispositivi audio se ci guardi vedrai che è in microfono 1 e 2 lì perché la scheda audio è fatta così e no è mappata in quel modo l'usb rimane fissa così ma questa la puoi cambiare io devo fare arrivare ai canali 1 e 2 due canali di ingresso che io posso raggiungere controllare dalla console dal mixerone da questa roba qui questo aspetta che si 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 vede questo questo qui io è da qui io voglio controllare tutto dalla console e saranno questi due canali che io controllerò infatti io sono qui su questo canale mando ad aux e aux sta già ricevendo e se io adesso configuro la scheda audio ma ti faccio vedere come si fa si comincia per esempio con mettere semplicemente il canale aux 1 l sul primo canale guarda qui e poi aux 1 r ok come vedi su session link sta già lavorando mi riceve già ok quindi perché ho messo semplicemente gli ingressi si vede anche da qui 1 e 2 che sono gli ingressi principali dove prima c'erano i microfoni quindi anche reaper adesso non ha più il suo ingresso del microfono sul canale numero 1 cioè sul 3 non ce l'ho ancora messo però sarà il 3 bene quindi devo scalare tutti gli altri ingressi allo stesso identico modo quindi vado a riconfigurare la scheda con analogic mic line 1 hz ed eccolo qui infatti negli ingressi che io ritrovo il mio microfono numero 1 ma voglio che anche gli altri siano sotto dici ma devo fare questa cosa a mano no non importa adesso facciamo un bel giochino cascade mette in cascata tutti gli altri canali io tengo premuto il numero 3 dove ho messo il primo canale di riferimento clicco e trascino e vado giù fino in fondo fino a che non trovo si virtual va benissimo virtual 3 virtual 4 sono arrivato al numero 24 io ne ho un totale da mettere riparto dal 24 dove sono arrivato e vado avanti ci sono tutti gli altri virtual anche quelli che non ho monitor allora come vedi io qui sono arrivato a monitor ok 29 e 30 ok sono i monitor che prima erano nei canali precedenti al 27 al 28 dopo monitor io avrei di nuovo aux 1 ma io mi sono fermato su monitor perché il resto della della scheda è ancora mappato qui ci dovrebbe essere aux 1 in realtà io aux 1 ce l'ho già qua sopra se io faccio l'errore di mettere due volte la aux potrei ritrovarmi ad avere la scheda che non sa dove mandare questo segnale perché se lo ritrova mappato doppio dice lo mando ai canali 1 e 2 o ai canali 31 e 32 capito quindi non ce lo metto se dovessi metterlo semplicemente lo selezioni e poi lo cancelli con non ok chiaro poi lo rimetti se ti serve è molto semplice rimetterlo si trova nei monitor quindi questo sarebbe la aux 2 r perfetto capito quindi dopo i monitor iniziano gli aux il primo l'abbiamo già spostato su il resto scala tranne la aux 2 che resta al suo posto nel mixer non cambia assolutamente niente il mixer è rimasto tale e quale cioè io non devo riconfigurare il mixer per fare questo no no l'unica cosa che dovrò fare sarà configurare i miei software di registrazione perché quando andranno a cercare uno di questi canali non ce l'avranno più dove era prima ma due canali avanti è molto semplice però intanto io su session link sto già entrando con la aux e dopo ti faccio vedere la figata della aux puoi fare quello che ti pare bellissima continuiamo con la configurazione andiamo negli output che in questo momento sono standard monitor eccetera significa che quando io farò il test loop di questo qui mi uscirà dalle casse tu lo senti dalle casse non lo senti da nessun'altra parte sì sono io che parlo è un test di prova dalle casse non lo senti da nessun'altra parte sì sono io che parlo è un test di prova ok io però non posso sentirlo dalle casse da lei universal audio no non posso bisogna che i canali 1 e 2 perché chrome usa quelli siano i virtual io voglio i virtual quindi vado qui vado a cercare virtual ci metto il virtual 1 poi vado giù e ci metto anche il virtual 2 e a questo punto io avrò questo segnale sui canali virtuali quindi dentro alla console te lo posso anche far vedere da qui faccio un bel check di nuovo test loop sì è bello quando funziona bene subito tutto primo te lo faccio vedere subito come no virtual 1 e 2 sì sai perché non lo fa ma guarda è stato meglio così andiamo nei settings non lo ha fatto uscire il suono perché ce l'ho due volte virtual guarda vedi questa è una cosa quella cosa che ho fatto prima in ingresso la devo fare anche in uscita devo tirare via questo virtual 1 e 2 perché c'è due volte e la macchina non sa dove inviare questo segnale quindi io qui metterò il virtual 3 e 4 lo posso anche già fare volendo però adesso facciamo così togliamo anche il 3 e il 4 per sicurezza e poi rimappiamo le uscite nella linea numero 3 a questo punto io ci metto il monitor e poi con il tasto cascade tengo premuto sul tasto 3 che è l'ultimo che ho inserito e vado giù vado giù vado giù vado giù vado giù vado giù e vedrai che mi arriva lo speed if virtual 1 e 2 non li voglio mettere mi fermo allo speed if qui ci metto il 3 e il 4 e lo faccio a mano guarda virtual 3 giù di 1 virtual 4 perfetto adesso ho speed if virtual 3 e 4 5 6 7 8 che in questo momento non sono attivi ma me li fa vedere comunque e il resto della configurazione della scheda non è cambiato è tutto scivolato avanti fino al virtual nelle uscite e fino all'aux negli ingressi perché ho sostituito ho messo gli aux 1 e 2 e quindi tutto quello che c'era lì si è spostato in avanti ma avendolo tolto dai canali sotto perché non compaia due volte e nel caso ti comparirebbe un numerino di fianco fra parentesi a dirti guarda che questo canale c'è due volte questo è un segnale d'allarme la scheda non lo fai in automatico tu guardaci una volta che hai fatto questa configurazione che ce l'hai funzionerà vedrai che da virtual qui sul mixer mi uscirà il test loop adesso si funziona dai audio test loop adesso faccio un test e lo faccio uscire anche delle casse ma in realtà tu l'hai già sentito play back will start after the beep ok adesso faccio un test e lo faccio uscire anche delle casse ma in realtà tu l'hai già sentito perfetto fantastico ok casse e fammelo rivedere audio test loop please talk after the beep perfetto no no funziona tutto perfettamente io non lo sto sentendo nelle casse tu lo stai sentendo attraverso l'uscita che io mando a te io a te sto mandando un'uscita controllata non ce l'ho sulle casse ma a te arriva comunque il suono questo è il mio scopo poter gestire dalla console tutti i suoni che escono e decidere cosa mandare alle casse cosa mandare alle cuffie cosa mandare a chi è connesso con me ok e va bene questo sì c'è quello che si può fare praticamente anche il mix minus e in sostanza il mio cliente entrerà da questo canale quello che hai sentito anche tu io eviterò di mandarlo all'aux 1 in questo momento lo sto mandando all'aux 1 per comodità ma in realtà dovrei metterli in mute il virtual 1 e 2 e tenere aperto al massimo l'aux 2 se voglio usare quello come canale alternativo lo mando sicuramente le cuffie q e 1 2 3 4 e questo mi consente di sentire ma nel mixer ci torniamo dopo perché ti devo far vedere un po di belle cose del mixer una volta che hai terminato la configurazione della scheda si troverà qui nominata untitled salvi gli dai un nome lo chiamiamo mario l'ho già chiamato mario prima perché ho fatto una pro prima sì voglio sovrascrivere mario così non ce l'ho 20 volte ok e io lo troverò qui come mario ok se io voglio tornare in default premo default e tu vedrai che intanto session link pro non mi registra più da questo microfono perché è il 34 quindi non gli interessa dicono come faccio non lo ricevo mica io ricevo solo l'1 e il 2 ah sì davvero guarda io vado a riprendere mario mario load ed ecco che di nuovo funziona tutto come prima ho i canali virtual 1 e 2 che sono dedicati alle uscite 1 e 2 della scheda audio pollo quindi se il mac dovesse suonare su quello o su qualunque altra applicazione la colleghi con la virtual con la scheda audio pollo quella se ne uscirà sul virtual 1 e 2 e tu non ce l'avrai sparsa così senza sapere dove nelle casse che non è comodo e poi gli altri canali di conseguenza quale conseguenza ok adesso ti faccio vedere dove sono andati tutti i canali una piccola nota cavi allora se usi il q come ho fatto io la volta scorsa avrei sentito che nel video precedente e beh avevo un po di fruscio me ne sono accorto dopo quando ho messo online è colpa mia perché ho usato per fare l'esperimento dei cavi normali jack mono e come gira in suoni si va bene mi piace poi non ho ascoltato bene e non mi sono accorto che c'era del fruscio me ne sono accorto quando ho messo online con le cuffiette addirittura si sente il fruscio è dato da questi cavacci sono cavi mono quindi sbilanciati se io ci avessi usato questi bei cavi bilanciati e magari di buona qualità questo per esempio è un reference costa come un bitcoin vabbè è lo stesso la faccia di chi dice che i cavi non contano niente sono tutti uguali non avresti avuto fruscio e infatti oggi di fruscio non ne hai sentito pur passando o ne hai sentito pochissimo dai veramente un orecchio molto raffinato per essertene accorto pur essendo passati da analogico a digitale interamente in tutto questo filmato capito però una cosa va detta dal punto di vista fisico le cose non cambiano non devi toccare nulla non è che se cambi questa configurazione poi ti cambiano gli ingressi e le uscite le case restano al loro posto tutto uguale quello che cambia è dal punto di vista software cioè i software andranno a cercare gli ingressi altrove gli ingressi per esempio avranno i canali 1 e 2 che invece di essere sull'1 e il 2 saranno sul 3 sul 4 e via dicendo perché i primi due li hai occupati quindi viene tutto spostato in giù ecco per quanto riguarda le uscite io vorrei fare un discorso diciamo alternativo cioè in questo modo ho configurato in maniera che non ci sia bisogno di toccare assolutamente nulla quindi in maniera del tutto standard i software andranno a prendere i primi due canali sia di ingresso che d'uscita così sei sicuro che l'uscita sarà esattamente sul virtual 1 e 2 per tutto ciò che suona lì però questo significa anche che per esempio se ti faccio vedere la configurazione di logic che ho qui negli io assignments io ho dovuto spostare nell'impianto 5.1 le uscite perché prima erano sull'1 e sul 2 ma adesso le uscite per il software sono sul 3 sul 4 e di conseguenza tutte le altre spostate avanti di due ha senso fare questa cosa non lo so potrebbe non avercelo il senso perché effettivamente se tu non mappi le uscite quindi ti occupi solo di mappare gli ingressi e gli aux e le uscite le lasci così al mac puoi dire attraverso configura altoparlanti di andare a prendere i canali che ti interessa che suonino per quella scheda quindi se io volessi lasciarlo standard non avrei nessun problema mi uscirebbe sulle casse se invece voglio che venga indirizzato il suono sui canali virtuali vado in configura altoparlanti e faccio la configurazione e tutto il resto delle configurazioni non sono da toccare perché il monitor 1 sarà sempre il canale numero 1 il monitor 2 sarà sempre il canale numero 2 capito quindi questo era solamente per dire che sì si può fare ma non è necessario fare soprattutto l'uscita allora un uso che si potrebbe fare della aux normalmente in fase di mix per esempio sarebbe quello di utilizzarlo per una serie di effetti che vogliamo fare avere su tutto il mix finale quindi tutti gli input passeranno attraverso questo aux del tutto in parte e raccoglieranno l'effetto che è inserito nella aux quindi la aux semplicemente in questo caso si aggiunge all'uscita mix perché la aux è un ingresso quindi noi gli mandiamo un suono questo ingresso può essere elaborato e inviato nuovamente a un'uscita che sia q1 q2 che abbiamo detto sono uscite oppure l'uscita mix quella che va alle casse oppure alle cuffie se le colleghi all'uscita mix l'ipotesi potrebbe essere quella di un coro e di più voci che ne so che cantano e vogliamo fare avere a tutte queste voci un singolo effetto ora o carichiamo quattro sessioni del galaxy per esempio sopra a tutti i canali però a questo punto noi avremmo parecchia roba che va a caricare il sistema poi dovremmo regolare i galaxy uguali per ogni microfono che decidiamo di bagnare con questo eco se invece noi lo mettiamo in aux semplicemente apriamo il nostro canale aux cioè questo canale qua sopra il canale aux quello che nei sense si trova aux in questo caso uso la aux 1 e mando il segnale in questa in questa direzione all'interno di questo ausiliario poi attivo il galaxy che ho già messo dentro al canale aux e adesso ti faccio sentire che cosa accade cioè io ti metto ad ascoltare il mix anziché il q3 lo decido come si vedeva nel video che ho fatto l'altra volta attraverso q outputs cioè dove sei collegato tu tu sei collegato sempre alla linea 3 e 4 quindi sei la nella mia cuffia in questo momento faccio uscire dicevo l'uscita mix e poi mando il segnale ad aux cioè entra anche qui lo vedi aux in questo momento è attivo bene se io apro la aux a un certo punto comincerai a sentire che più apro e più entra il segnale bagnato con l'aggiunta del tape eco che ho messo qua dentro in questo momento io sono in pre allora tra pre e post pre va a prelevare il segnale prima del mixer post dopo il mixer quindi prima del mixer lo preleva direttamente da dove entra il microfono post dopo il mixer cioè dopo che io ho alzato questo cursore significa che se io apro questo e abbasso il mio segnale in pratica tu mi senti lo stesso non cambia assolutamente niente per te che io lo alzi o non lo alzi solo se lo alzo monto comincia a sentire di più anche la mia voce però in termini di quantità di eco che c'è di suono che io mando all'eco non cambia assolutamente niente potrei cambiarlo solamente aumentando o diminuendo questo segnale perché questo è prima dell'uscita del mixer se vado in post in questo caso io devo necessariamente aprire il mixer altrimenti il segnale non esce perché lo preleva dopo questo quindi io posso alzarlo e abbassarlo quindi posso decidere di avere più o meno segnale bagnato però se io abbasso l'uscita del mic in sostanza sentirai che cala anche l'effetto eco cala anche l'effetto eco per questa ragione perché in post cioè prendi segnale da qui anziché da pre cos'è che è interessante utilizzare la aux e perché magari è più interessante rispetto a usare una scheda audio esterna oppure usare i q e tutta quella roba la prima ipotesi è quella del fatto che tu stai utilizzando una scheda che costa 1500 2000 euro minimo 600 se non di più anche se quella piccolina e che avrà all'interno un sistema di conversione da analogico a digitale di un certo livello bene prendi i suoni poi li mandi a una behringer a una focus right di quelle come cavolo si chiama da 200 euro a una vecchia scheda audio usb che sicuramente non ha dei grandissimi convertitori già solo quello potrebbe essere diciamo una ragione per connettere il tuo cliente direttamente alla tua scheda audio quindi rimapparla e farla connettere agli aux che sono parte integrante della tua scheda audio già solo quello e facendo così tra l'altro tu puoi mandare il tuo suono direttamente al canale aux anche flat io in questo momento sto arrivando completamente flat sono collegato dal mio tlm 67 che si trova nel canale numero 3 della mia scheda audio se tu fossi connesso con session link non mi sentiresti se fosse la configurazione standard perché sentirebbe solo i canali 1 e 2 il 3 non lo sentirebbe più capito invece così lo sente perfettamente non solo posso fare i livelli senza andare a modificare per esempio il gain direttamente del microfono dici qual è il vantaggio allora in questo caso potrebbe anche non esserci perché se stai entrando flat senza l'utilizzo di preamplificatori e insert vari per regolare il suono della tua scheda audio che di solito si fa invece dentro alla universal audio ti fai il tuo suono e poi quello diventa il tuo marchio il mio microfono suona così ecco in questo caso puoi alzare abbassare il gain e buonanotte a secchio dopo ogni volta che devi tornare in registrazione se tu non usi queste caratteristiche ti devi comunque rifare il gain non mi ricordo era 27 28 30 come cacchio era e puoi alzare in realtà il volume alzarlo e abbassarlo direttamente sulla aux lo fai da qui ci metti un limiter e poi da qui regoli il volume come lo vuoi più alto più basso se ne vuole di più gliene dai di più se ne vuole di meno ne metti meno hai capito già questo può essere un aiuto l'alternativa invece è quella di tutti gli che si sono fatti il suono ad hoc con il proprio scusa basso un attimo che era veramente alto con il proprio la propria catena audio allora potrebbe accadere che il fonico ti dica di abbassare un po il livello del suono anche qui lo fai direttamente dai canali aux perché perché se lo vai a fare nel gain andrei a cambiare l'equilibrio di tutti i segnali nella tua catena audio partire dall'ingresso fino all'uscita quindi i compressori lavoreranno diversamente gli expander lavoreranno diversamente non sarà la stessa cosa quindi tu il volume lo fai da qui dici ma potrei fare anche da aux sì certo lo puoi fare anche da qui è uguale però lo stai comunque facendo su un canale esterno lo puoi fare sul Q volendo ma dentro alla aux ci puoi mettere degli effetti come per esempio questo limiter quindi se a un certo punto il tuo cliente ti chiede di fare un grido piuttosto forte ecco che vedi che qui porca miseria abbassa mi salva il Q perché non va in distorsione non ci va a parte il fatto che c'è la catena audio precedente che già quella evita di andare in distorsione però questo ti contiene comunque il suono anche se sei flat come appunto eravamo prima non solo quando sei connesso con per esempio un'agenzia ci sono gli account dell'agenzia che ti stanno ascoltando e sono loro che giudicheranno il suono e il lavoro che stai facendo molto spesso gli account non sono dal fonico cioè una volta andavano dal fonico e il fonico si connetteva con te per esempio in ISDN e roba del genere adesso questa cosa non c'è più non si fa più c'è l'account direttamente nel suo ufficio mentre lì che prende il caffè mentre chiacchiera con i suoi colleghi a un certo punto hai ciao una call si mette le cuffiette e si mette a seguire la call naturalmente il suono che tu gli mandi se è un suono che vuoi registrare non avrà il segnale pieno del suono che utilizzerai in mastering una volta che hai finito il lavoro che hai pulito il file e lo mandi via sarà un suono abbastanza tranquillo flat contenuto ma flat dovrai pomparlo un po' il suono per queste persone perché usano le cuffiette sono in un luogo c'è un call center che tutta mattina che mi rompe il cazzo no vai a vai a quel paese non si può non è veramente sono impossibile sono insopportabili dicevo e ah sì loro hanno la cuffietta e devono sentire decisamente quello che tu stai facendo e soprattutto sentirlo bene ora se tu senti la performance di una band musicale senza che sia stato masterizzato il file audio lo senti mi 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 un po' basso non ti sembra granché la finisci di rompermi i coglioni se non ti rispondo ci sarà una ragione e cosa ti stavo dicendo ti stavo dicendo una cosa importante ah sì il mastering è molto importante perché più è potente il suono più sembra bella la performance lo so che è da bastardi questo però è così se tu hai un suono basso basso dall'altra parte lui ha le cuffiette c'è del casino dentro l'ambiente dove sta lavorando sta prendendo il caffè si è alzato storto c'è un orecchio un po' turato tu puoi realizzare il suono e adesso te lo faccio vedere per esempio se io posso mettergli ad esempio questo è un altro compressore senti che il suono è migliorato decisamente da te ce n'è di più io sto comprimendo è chiaro che io non registrerò mai questo suono però posso entrare con un suono così che per te è decisamente più piacevole quindi se io faccio delle cose più contenute si sentirà molto bene dice fammela molto sentita salve questa è una frase molto sentita fammela più forte ok la faccio più forte però vedi che è tutto contenuto dai compressori in modo che chi dall'altra parte sta ascoltando quelle cuffie ti senta decisamente bene capisci la aux ti consente di fare questa roba poi c'è un'altra di cose che è quella del mix minus se io faccio una connessione il suono mi entrerà da virtual 1.2 no? in questo momento io sono collegato con un session link e tu in teoria non dovresti sentire nessun suono sta parlando eh? si vede qui salve questo è un file di test stiamo solo provando non hai sentito niente perché sei collegato dove c'è il mio cliente e se io fossi collegato con te nello stesso canale non sentirei te che parli che sei il mio cliente capito? non ti sentirei però se io non voglio far arrivare il suono del mio cliente al mio cliente stesso in modo da non innescare il riverbero che si creerebbe quell'eco per cui lui non riuscirebbe a parlare lo posso sentire solo io tenendomelo in cuffia sul cue su questo canale cue ok? chiudo tutti gli altri così so esattamente il suono che io sto mandando all'AUX1 e uso l'AUX1 come riferimento perché sono collegato qui ma quando io faccio audio test loop io lo sento in cuffia vedrai che qui non si muove che questo è il cliente a cui siamo collegati ma tu lo senti lo stesso qui è dove mi sente il mio cliente non deve arrivarci questo suono lo devi sentire solo tu audio test loop please talk after the beep salve sto facendo una prova tu non sentirei nulla senti solo la mia voce ma non senti la tua eh salve sto facendo una prova tu non sentirei nulla senti solo la mia voce quindi io tengo chiuso il virtuolone 2 verso l'AUX1 dove ho collegato il mio cliente anche se lo collego con una scheda esterna che poi veicolo attraverso il cue 1 o 2 come ti ho fatto vedere nell'altro filmato perché il cue 1 e 2 sono uscite fisiche posso uscire con un cavo andare su un'altra scheda audio e decidere di mandargli il suono di una Universal Audio Apollo da 1000 roti euro a una Foxrite da 200 però capita voglio di allora cerchiamo di fare un veloce recap della questione così almeno ne usciamo sani di mente noi abbiamo gli ingressi e le uscite se noi diamo un'occhiata agli ingressi e alle uscite gli input e gli output ci accorgiamo che alcuni di questi canali sono doppi ad esempio noi abbiamo solamente negli AUX li abbiamo solamente in ingresso i microfoni naturalmente li abbiamo solamente in ingresso le linee invece nel mio caso sono sia in ingresso che in uscita perché la scheda audio ha diverse linee di ingresso ma più linee di uscita quindi ha otto ingressi di cui quattro microfonici e quattro con il jack mono ma sono ingressi fisici con cui devi arrivare necessariamente con un cavo come cosa significa che se tu vuoi registrare il suono dentro a quel canale stici colleghi devi portargli un segnale fisicamente non puoi fare diversamente anche gli ADAT sono la stessa cosa e anche gli speedif sono la stessa cosa i virtual sono dei canali un po' particolari li troviamo sia in ingresso che in uscita perché in uscita tu puoi decidere di far suonare un software attraverso quel canale il virtual il quale entrerà quindi avrà un ingresso dentro alla console sarà qua dentro ok infatti abbiamo virtual 1 e 2 3 e 4 eccetera poi possono essere anche di più a seconda della potenza della tua scheda audio e di quanto decidi di utilizzarne quanti decidi di utilizzarne quindi quelli sono canali doppi ingressi e uscite però sono raggiungibili i primi solo fisicamente i virtual solo attraverso i software interni quindi le tue DO possono andare a cercarlo il tuo sistema operativo può andare a cercare quelle schede e poi abbiamo i monitor che sono sia in ingresso che in uscita li troviamo sia qui che qui qui ci sono i monitor in questo momento io li ho sul 29 e il 30 i canali li ho spostati prima sui canali 3 e 4 sono uscite perché vanno alle casse ma sono anche ingressi perché quello che tu mandi al monitor attraverso questo mixer grigio quello che tu mandi al monitor e che senti sulle casse può anche essere registrato cioè se tu punti sui canali del monitor che in ingresso sono pardon e li ho visti prima il 29 e il 30 se io prendo un software e mi ficco con il software sul 29 e il 30 io potrò registrare quello che esce da questi monitor ti faccio anche un esempio più pratico che visto forse aiuta un pochettino di più io apro Reaper ho le casse spente in questo modo il monitor non mi disturba e poi vado a cercare un canale di ingresso che sia il monitor prendiamo il monitor left in questo momento sul left cioè sul monitor in realtà io non sto facendo uscire niente solo che appena io toccherò rimpicciolisco questo così si vede qualcosa appena io toccherò la console Reaper finirà dietro ma va benissimo ora se io chiudo il microfono qui tolgo il mute da qui e poi comincio ad alzare il segnale come vedi sta entrando in Reaper entra qui perché ho detto a Reaper di puntare su quegli ingressi ok questo è un canale che mi potrebbe anche interessare per fare i tipi di connessione che intendo fare io perché se connetto il mio cliente al monitor di conseguenza prendo i monitor 1 e 2 input e li metto come ingressi primo e secondo della scheda audio a questo punto session link Chrome e tutti gli altri software vedranno quelli come input e potrò gestirlo da qui questo naturalmente se non uso le casse perché se accendo le casse innesca cioè entra entra anche nel microfono è per quello che non li ho scelti come canali per fare questa cosa ok mute però questo ti dice che cos'è un input l'input è un segnale è un canale in cui può arriva già un suono i Q per esempio su questo mixer li trovi solo in uscita infatti sono solo uscite non ci sono in ingresso i Q non ci sono perché questi questi due canali che troviamo ricordo in sense Q1 2 e poi ne puoi aggiungere altri secondo la tua scheda sono dei mixer aggiuntivi che prelevano il segnale prima del mixer grigio quindi lo prelevano direttamente alla fonte dall'ingresso del mio microfono io posso anche chiuderlo qua ma se apro Q ti arriva lo stesso il segnale vedi io posso mettere in mute il mixer grigio Q ha una vita a sé è un altro mixer sovrapposto che preleva il segnale direttamente dal dal ingresso fisico dove entra il segnale quindi un jack se entro su un canale con un jack qui in questo caso con un microfono e quindi con un XLR ok a vita propria ed è destinato a un'uscita tipicamente sono le cuffie o un altro paio di casse ma tipicamente sono le cuffie è proprio un'uscita fisica se io ti voglio fare sentire qualcosa che esce dal Q devo necessariamente prendere due cavi e portarli agli ingressi agli input di qualche scheda audio su quell'input io potrò registrare diversamente non lo posso fare è chiaro stucuncetto bene allora quindi abbiamo detto che i Q sono uscite il mixer grigio di fatto è un'uscita è un modulatore di segnale ma di fatto è un'uscita gli AUX invece hanno un mixer a parte sense anche loro molto interessante perché si comportano esattamente come come gli AUX scusami come i Q e come il mixer grigio qui sotto preleva il suono direttamente dalla fonte e poi lo indirizza ma non a un'uscita ha un altro ingresso ed è questo che mi interessa perché essendo degli ingressi gli AUX possono sfruttare questo mixer che di fatto incanala il segnale dentro alla AUX che si trova qua sotto tu lo vedi qua sotto lo so ti confondi il fatto che stia suonando qui ma questa non è un'uscita sì la AUX ha anche un'uscita ma tipicamente è un ingresso io posso mandare il segnale a una AUX il quale prenderà il suono l'abbiamo visto lungo tutto il video se io vado a prendere il suono dalla AUX quel suono suona se io posso alzarlo a questo punto è dipendente da questo mixer che va all'ingresso AUX a loro volta gli ingressi AUX hanno un'uscita che va di nuovo sui Q oppure sul mixer ok però gli ingressi che interessano a me sono proprio gli AUX per il semplice fatto che sono gli unici ad essere degli ingressi che io posso raggiungere direttamente dal mixer della console quello che naturalmente sta sopra al mixer grigio cioè il mixer dedicato agli AUX che è questa roba qui qui la vedi in forma compatta in sense invece la puoi vedere in forma ampliata estesa che devi andare a selezionare di volta in volta per sapere esattamente cosa è aperto cosa è chiuso in overview naturalmente qua sopra vedrai il mixer sotto forma di manopole anziché di slider microfonici ok spero che questa cosa sia abbastanza chiara quindi quando tu fai la riconfigurazione la rimappatura della scheda audio non cambia assolutamente niente dal punto di vista hardware le uscite delle casse restano al loro posto le uscite delle cuffie restano al loro posto i microfoni anche se sul software si chiamano 345 anziché 1 2 sono sempre lì allo stesso identico posto non sono cambiati la mappatura è solo virtuale cioè interessa solo come i software andranno a vedere come sono disposti gli ingressi e le uscite che naturalmente puoi rimappare quindi li vedrà sull'ingresso numero 3 anche se il microfono è il numero 1 ma è puramente ed esclusivamente virtuale sia in ingresso che in uscita non so se mi sono spiegato allora non c'è una cosa che non ti ho ancora fatto vedere aspetta eh pronto prova mi senti mi senti hello questo è il talkback sì c'è la possibilità di usare in AUX anche il talkback perché effettivamente arriva anche a quei canali vedi qui c'è l'uscita AUX 1 e 2 quindi su tutti e due i canali quindi queste sono due schede di registrazione due digitali interne alla scheda audio due canali a cui io posso mandare tutti i segnali io sto usando l'AUX 1 ma c'è anche l'AUX 2 che non l'abbiamo considerato a cui posso mandare anche il talkback sono quelle cose che si fanno quando tu hai il tuo speaker in sala e tu stai facendo da regia e devi dirgli per esempio lui sta lavorando ok take 1 vai no questa faceva schifo devi rifarla senti ma non è che conosci uno speaker che magari lo chiamiamo lavorare perché stamattina proprio non funziona capito quelle cose che ci dico carine con tipo Anna Franculo che di solito non ci si dovrebbe dire ma poi ok spengo il talkback poi ti faccio vedere un'altra cosa ed è l'ultima prima di andare a Nanna Audacity facciamolo partire così è più figo aspetta facciamo così Audacity la dough dei poveri che sta diventando interessante no tralascia no per favore questa è la 3.5 beta sto provando la 3.5 beta hanno fatto delle cose nuove un po' stanno migliorando l'editing c'è ancora il sistema di insert output che un po' mi fa pensare perché guarda allora lascio come dispositivo di riproduzione la mia scheda audio digitale esterna così però potrei usare anche l'universal audio tanto mi entrerebbe dove abbiamo visto cioè utilizza praticamente virtual 3.4 e aux 1.2 quindi se io vado in registrazione faccio un nuovo take facciamone uno nuovo lo fermiamo un attimo vedi che ho una mi ha dato uno stereo perché mi ha dato uno stereo perché nella configurazione audio se vado in dispositivo mi dice che c'è la universal audio e poi c'è questa bella voce che si chiama canali della registrazione tu dici veramente allora io posso dirgli dove registrare no? cioè posso scegliere il canale magari della traccia e qui qui posso posso scegliere il canale della traccia da qualche parte non so mettimelo qui forma d'onda colore d'onda cambia steddy di stereo formato frequenza c'è di tutto rename track ma proprio non c'è ancora questa cosa di poter scegliere il canale perché se io scelgo 20 tracce la traccia numero 20 non è che mi va a prendere la traccia numero 20 no no ti faccio vedere fa questa cosa ok mi registra 20 tracce allora se il mio suono è nelle 20 tracce bene però poi ho 20 tracce io questa cosa ancora non ho capito perché faccia ci abbiano messo questa questa funzione ma magari è importantissima vedi però l'una e il due me le ha fatte stereo cioè mono due canali mono mi ha fatto però mi ha fatto 20 canali 20 tracce se voglio registrare in mono tranquillamente vado sul canale numero 1 e quando faccio rec semplicemente registra il canale numero 1 eccolo qua che è l'AUX1 che abbiamo sistemato quindi io posso spostare questo è carino sta diventando bellino che semplicemente registra dove esce fammelo vedere sul mixer che semplicemente registra ok esce sullo speediff posso farlo se gli dico di uscire dispositivo di riproduzione sullo universal audio eccolo qua eccolo te lo faccio sentire ti apri il canale anche a te che semplicemente registra ok esce sul mac 3 e 4 che per me in questo momento è il virtual 3 e 4 che abbiamo configurato prima per le sessioni dal vivo con questa ho fatto un video proprio su audacity per fare la sessione dal vivo bisogna configurare un po' il computer e usare io direi una scheda audio virtuale perché audacity ancora non hanno capito che cosa vogliono fare di questa do però sta facendo delle cose nuove magari ci sono non lo so scroll del mouse abilitare riproduzione ciclica svuota il loop c'è un sacco di roba ma ancora non c'è proprio verso di configurare le impostazioni audio continuano ad essere vecchie quel vecchio sistema che aveva canali 1 mono ma non mi fai accedere alle tracce e dire che le vede le tracce perché ne vedeva 64 che sono esattamente il numero di tracce che io ho sistemato qua dentro vedi 64 le vedeva tutte però le abilita tutte in una volta non c'è verso di dirgli senti facciamo così questa traccia ma la registi sul canale 1 2 allora il punto diventerebbe anche una 2 vabbè non lo fa non c'è niente da fare no non voglio salvare questa sessione ti tengo d'occhio le cose cambiano un giorno diventerà grande però per adesso ti ho fatto vedere questa cosa ti faccio vedere un'ultima cosa questa riguarda OBS dentro alle proprietà audio di OBS come vedete vai in proprietà ti fa vedere sì no no aspetta sì sì salva va bene ok dentro la proprietà audio di OBS se tu vai nel dispositivo troverai questo Abilita Downmix ok l'Abilita Downmix è molto interessante perché ti consente di scegliere i canali di ingresso quindi in realtà qui non avresti bisogno su OBS per usarlo su OBS di questa cosa te ne frega niente perché puoi andarlo a scegliere tu la AUX che ti interessa ok lo scegli direttamente da qui se togli Abilita Downmix prende direttamente i canali 1 e 2 e io posso farti sentire esattamente il suono che sta entrando dalla Apollo questo è il suono che passa lo vedi da qui dai canali della Apollo prima lo sentivi dalla Volt 276 quindi dall'analogico qui invece dalla Apollo ma è una cosa bellissima adesso ti do una buona notizia per tu che usi Windows se magari hai una scheda audio USB anche sulle schede audio USB sotto Windows il problema pare che sia dato dalla banda passante cioè non ce n'è abbastanza sulla 3.0 per esempio nella connessione USB per poter avviare tutta questa serie di cose aggiuntive cioè fare appunto la gestione della mappatura della scheda audio anche se mi dicono ci sono volendo i driver che vengono visti come Thunderbolt e però potrebbero dare dei problemi comunque in ogni caso su OBS c'è una cosa aggiuntiva il mio amico Nicola Nicola Lanci dopo ti metto sotto il link al suo canale così eventualmente vai a vedere lì la soluzione quando lo posterà ha scoperto che OBS ha un ASIO versione 3.2 in questo momento ASIO per OBS vale a dire che una volta che tu hai installato questo plugin per OBS OBS potrà vedere la tua scheda audio in tutto per tutto e tu potrai fare quell'operazione che ti ho fatto vedere cioè andarti a prendere per esempio gli AUX della tua schedina anche se è una solo o un arrow non ha importanza se è una USB puoi prendere i canali e quindi fare routing a questo punto si tratta di portare fuori l'audio che tu stai facendo entrare in OBS attraverso un canale di uscita che OBS sicuramente fornisce però io non mi addentro più di tanto in questa questione perché il video è già stato abbastanza lungo poi soprattutto dovrei studiarmi questa cosa ma non avendo Windows ti rimando a Nicola e al suo canale e quindi metterò il link in descrizione ma non è stato fantastico ma non è bellissimo avere scoperto tutte queste cose in che senso no voglio dire in che senso non ho capito non hai capito quest'ultima di OBS non hai capito quello precedente in che senso non hai capito niente cioè devo rispiegarti tutto ma mi sembrava così logico cioè tu insomma in pratica sposti i canali nell'1 e il 2 perché il problema è che nell'1 e il 2 non vengono letti da Chrome se non esiste un'icla che è 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 un'icla